Quattro letti elettrici ortopedici e 20 materassi antidecubito. È quanto donato dal Rotary Club Gubbio alla Casa di Riposo Mosca, un service importante che conclude le celebrazioni per i 60 anni dalla costituzione del club e del frutto della raccolta fondi realizzata con l'evento Run4You, la camminata a passo libero dello scorso ottobre, patrocinata dal Comune di Gubbio e realizzata in collaborazione con la Gubbio Runners e il Rotaract. È un service che abbiamo concepito insieme all'astenotrofio, risponde a un bisogno importante della struttura, è un beneficio per gli operatori sanitari e per gli ospiti della Casa di Riposo Mosca. È una donazione molto importante perché naturalmente è volta a migliorare sia il benessere degli ospiti in tutti i loro aspetti, anche però l'operatività degli addetti, degli operatori sociosanitari che hanno così una leggerezza nel loro carico di lavoro. È importante questa donazione perché serve a potenziare un nuovo servizio che la Casa di Riposo Mosca sta svolgendo e si tratta di quattro posti di comunità alloggio per disabili adulti gravi che è stata partita da settembre del 2023, è stata accreditata dalla Regione dell'Umbria e siamo in attesa di convenzionamento con l'ASL. È importante perché si rivolge a una fascia di utenti che hanno meno di 65 anni e come ho detto prima nell'inaugurazione si colloca tra il famoso dopo di noi e la residenza protetta perché sono utenti non più giovanissimi ma comunque che non hanno l'età per essere qualificati come utenti anziani. Quindi è un nuovo servizio che noi diamo alla città di Gubbio e siamo felici anche di tutti ciò perché la nostra vocazione è proprio quella di soddisfare le esigenze del nostro territorio. La donazione è stata solo una parte dell'intenso finale dell'anno rotariano. Dopo l'appuntamento alla Casa Mosca il Rotary si è infatti ritrovato nella Biblioteca Sperelliana per un partecipato incontro incentrato sul tema del ruolo della prevenzione sulle malattie e l'invecchiamento in salute. Ospite d'eccezione il professor Pier Giuseppe Pericci direttore della ricerca all'Istituto Europeo di Oncologia e ordinario all'Università degli Studi di Milano. Nonostante le guarigioni da tumore aumentino in maniera significativa il numero totale di tumori non cala anzi c'è un aumento intorno all'1-2% ogni anno e questo è un fallimento della prevenzione. Non riusciamo, la società non riesce a mettere in atto tutto quello che dovrebbe per prevenire i tumori. Alcune sono responsabilità della società per esempio rispetto a un obiettivo di copertura della prevenzione per esempio del tumore del seno con le mammografie del tumore del colon eccetera del 90% siamo più o meno al 40% e questo non è buono. E molto è anche colpa nostra perché dell'individuo, delle persone perché alcune cose le conosciamo bene tipo il sovrappeso, tipo il fumo, tipo l'alcol l'uso eccessivo di carne eccetera e non riesce bene a decollare e questo è un problema perché lei pensi che se seguissimo alcune delle indicazioni semplici senza andare a guardare lontano sulla prevenzione si potrebbero prevenire il 30% dei tumori.